un pomeriggio a tutti ben ritrovati sul mio canale youtube io sono cinzia e oggi andremo a creare insieme la mattonella mosaico come potete vedere io già qua ne ho due con due colorazioni diverse allora per la realizzazione di questo progetto ci serve l'uncinetto 3,5 il filato flamenco che potete trovare sul sito www.lanedibiella.com inoltre per tutte voi che acquistate questi filati da lane di biella e seguite i miei canali abbiamo uno sconto particolare quindi basta a fine ordine digitare il codice sconto cinzia c creazioni e avremo un trattamento particolare quindi una ragione in più per andare a visitare il sito www.lanedibiella.com allora per questo progetto io ho utilizzato il giallo allora il giallo che il numero 19 intanto vi ricordo anche se ormai più volte ho lavorato questo filato vi ricordo che è un cotone 100 per cento egiziano mercerizzato ovviamente made in italy per quanto riguarda la metratura abbiamo 210 metri per 100 grammi di matassa come potete vedere è una bella matassa io ho utilizzato il giallo che il numero 19 ho utilizzato il bianco che è il numero 1 ho utilizzato il glicine che è il numero 13 ho utilizzato il verde acido che è il numero 112 ho utilizzato anche il nero che il numero 90 e il grigio perla il grigio perla che è il numero 122 pure il grigio perla è bellissimo ma per il grigio perla c'è un altro progetto in arrivo allora intanto andiamo a realizzare questa mattonella che ovviamente la dimensione della mattonella dipende da come la vogliamo realizzare quindi può essere piccola come può essere anche molto molto grande allora prima cosa da fare come vado a utilizzare un colore più acceso così riuscite a vedere bene non il bianco allora come primo giro noi abbiamo il cerchio magico quindi filo corto dalla parte di sotto giro intorno alle dita intreccio e mi vado a posizionare l'uncinetto sotto il primo filo e tiro il filo che ho di sopra prendo il filo dietro e passo attraverso il piccolo cappietro e questo è il nostro cerchio magico quindi tiro arrivato a sto punto io mi faccio le 3 catenelle 1 2 3 queste 3 catenelle mi vanno a sostituire la prima maglia alta quindi ora filo sull'uncinetto realizzo altre 2 maglie alte quindi 1 2 ora mi vado a fare 3 catenelle il primo giro è come la classica mattonella ora mi faccio un altro gruppo di 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 e 3 mi vado a realizzare oltre ora le ultime 3 maglie alte 1 1 2 e 3 3 catenelle filo corto chiudo per bene il cerchio magico noi siamo qua chiudo per bene il cerchio magico dopo di che vado a posizionarmi sulla terza catenella di inizio giro con l'uncinetto sull'ultima catenella vado a realizzare una maglia bassissima ok ora arrivata a questo punto taglio il filo e fino a qua praticamente noi abbiamo il primo giro che è come una normale mattonella classica ora cosa succede quindi questo è il primo tiro bene questo è il nostro primo giro quindi questa parte che io avevo già lavorato in giallo ora prendo il filo bianco perché si fanno un giro di maglie alte un giro di catenelle maglie basse questo giro di catenella e maglie basse è questo che voi vedete con la colorazione nera quindi voi scegliete il colore che volete inserire che dovete a volendo poi potete anche cambiare e ripetere per un giro sì e un giro no io per esempio in quest'altro come potete vedere l'ho fatto sempre in tinta sempre bianco quindi stavolta cambiamo va stavolta lo realizziamo stavolta lo realizziamo in verde petrolio verde petrolio noi l'abbiamo già utilizzato il verde petrolio noi l'abbiamo già utilizzato per la borsa grani rapunzel ed è il numero 48 allora prendiamo il filo facciamo il nostro cappietto mi posiziono nell'archetto delle tre catenelle prendo il cappietto chiudo ok quindi maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa nello stesso archetto io mi sposto direttamente nell'archetto maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 nello stesso archetto io mi vado a realizzare la maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa dentro l'archetto 3 catenelle 1 2 3 catenelle 1 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 caten con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa lavorata cerchiamo di prenderla per intero la maglia altrimenti si vede ok e mi vado a realizzare la maglia bassissima tiro il filo taglio stringo e vado a nascondere dietro il filo e poi con l'ago tira fettuccia io mi vado a nascondere tutti questi fili ora noi siamo al secondo giro passiamo al terzo il terzo usiamo il giallo cappietto mi posiziono all'interno di queste tre maglie alte della curva e a questo punto vado a lavorare 3 catenelle 1 2 3 che mi sostituiscono la prima maglia alta filo sull'uncinetto mi vado a realizzare altre due maglie alte quindi una e due tre catenelle 1 2 3 sempre nello stesso archetto altre tre maglie alte 1 2 e 3 una catenella di separazione e all'interno dove c'è questo spazio dove si è creato questo spazio delle tre catenelle io prendo il filo entro qua sotto e mi vado a realizzare 3 maglie alte quindi una due e tre catenella di separazione filo sull'uncinetto dentro l'archetto io mi vado a realizzare 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte quindi una 1 2 3 1 2 3 e altre 3 maglie alte quindi una 2 3 una catenella di separazione all'interno di questo archetto mi vado a realizzare le 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione e all'interno del nostro angolo andiamo a realizzare sempre 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte quindi una 1 2 3 1 2 3 3 maglie alte quindi una 2 3 una catenella di separazione e all'interno di questo archetto andiamo a realizzare 3 maglie alte 1 2 3 una catenella di separazione e nell'archetto nell'angolo dell'archetto noi andiamo a realizzare sempre 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 3 3 3 catenelle ora andiamo a realizzare le 3 maglie alte sempre nello stesso archetto 1 2 3 una catenella di catenella di separazione e mi vado a realizzare le ultime 3 maglie alte quindi 1 2 3 una catenella di separazione mi vado a puntare sulla terza catenella maglia bassissima e mi vado a tagliare anche questo filo tiro e lo nascondo dietro ok ora arrivato a questo punto cosa faccio decido se continuare con il verde petrolio o se voglio cambio filato io rimango sempre con il verde petrolio perché mi piace che rimane sempre lo stesso lo stesso filo quindi cappietto mi posiziono all'interno del nostro angolo stringo il cappietto maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 nello stesso archetto mi vado a realizzare una maglia bassa 1 2 3 in questo spazio dove noi abbiamo realizzato la catenella noi andiamo a realizzare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 in quest altro archetto in quest altro spazio dove noi abbiamo realizzato la catenella una maglia bassa 1 2 3 maglia bassa 1 2 3 maglia bassa nell'archetto 1 2 3 maglia bassa sempre dentro lo stesso archetto 1 2 3 maglia bassa dove abbiamo realizzato la catenella 3 catenella 1 2 3 maglia bassa 1 2 3 maglia bassa 1 2 3 maglia bassa all'interno dell'archetto 1 2 3 maglia bassa 1 2 3 maglia bassa dove abbiamo realizzato la catenella 1 2 3 maglia bassa dove abbiamo realizzato la catenella 1 2 3 maglia bassa 1 2 3 maglia bassa 1 2 3 maglia bassa dove abbiamo realizzato la catenella 1 2 3 back to 1 maglia bassa 1 2 e 3 maglia bassa dove abbiamo realizzato la catenella 1 2 e 3 una maglia bassa aspettate che c'è un nodino ok quindi una maglia bassa nella catenella che abbiamo realizzato nel giro precedente 3 catenelle 1 2 3 e mi vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia realizzata tiro taglio il filo stringo e mi vado a nascondere il filo dietro che poi con la gotira fettuccia noi andiamo a nascondere una volta realizzato il nostro guardate che viene carina una volta realizzato quest'altro giro io cosa faccio procedo sempre nello stesso identico modo quindi ora dopo del giallo io ci vado a mettere il glicine con il filo glicine io cosa faccio cappietto mi posiziono nell'archetto mi vado a realizzare all'interno di questo archetto dell'archetto facciamo attenzione che non dobbiamo andare sotto le le tre maglie gialle ma sotto il verde petrolio e mi vado a realizzare 3 catenelle di inizio giro per poi andare a realizzare altre due maglie alte quindi 1 2 3 filo sull'uncinetto e mi vado a realizzare altre due maglie alte quindi una e due 3 catenelle 1 2 3 3 maglie alte sempre dentro lo stesso archetto quindi 1 1 2 2 e 3 una catenella di separazione filo sull'uncinetto all'interno di queste 3 catenelle lavorate mi vado a realizzare 3 maglie alte 1 2 3 una catenella di separazione 3 maglie alte 1 1 2 3 una catenella di separazione 3 maglie alte sempre sotto lo al nostro archetto delle 3 catenelle 1 1 2 2 3 una catenelle di separazione filo sull'uncinetto e nel nostro angolino sotto questo dentro questo archetto mi vado a realizzare 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte 2 e 3 1 2 e 3 filo sull'uncinetto 3 maglie alte quindi vedete non è difficile assolutissimamente e con questa stessa tecnica si possono fare sia quadrato in questo modo a circolo che a pannello catenella di separazione filo sull'uncinetto dentro questo archetto delle 3 maglie 3 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 catenelle di separazione sempre 3 maglie alte in questo spazio 1 2 3 una catenella di separazione una catenella di separazione filo sull'uncinetto dentro l'archetto per formare l'angolo formiamo come facciamo in tutte le mattonelle grani quindi non è non cambia moltissimo perché i punti come vedete sono identici cambia soltanto il secondo giro perché praticamente è suddiviso dalle 3 catenelle 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto 3 maglie alte nello stesso punto una catenella di separazione 3 maglie alte io vado a procedere sempre questo stesso modulo fino a grandezza desiderata quindi io posso farla gigante come posso renderla anche piccolina quindi dipende se la dobbiamo utilizzare per fare una borsa o come a mattonelle oppure una singola mattonella grande quindi dobbiamo vedere anche noi che comunque così è anche carino come sotto bicchiere come sotto piatto se lo facciamo più grande non è utile soltanto per fare una borsa ma possiamo utilizzarla in tantissimi vari modi io vi ricordo di seguire il canale youtube di iscrivervi basta semplicemente cliccare sulla scritta iscriviti scrivetevi pure sul canale facebook sul gruppo chiuso cinzia c creazioni crochet time ma in descrizione vi lascio scritto tutto sull'angolo realizziamo sempre 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte mi vado pure a nascondere la codina del filo 2 è l'ultima una catenella di separazione 3 maglie alte all'interno di questo archetto oltretutto un filato veramente bellissimo 2 filo sull'uncinetto mi realizzo la terza catenella di separazione 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione mi vado a realizzare le 3 maglie alte ultime 1 2 e così ho finito anche questo giro catenella e mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella lavorata ok taglio il filo nascondo la codina dietro e la mattonella è realizzata quindi una volta che noi la vogliamo finire con la grandezza basta che realizziamo l'ultimo giro e la nostra mattonella è fatta avete visto che viene carina allora io vi raccomando iscrivetevi sul mio canale youtube basta un semplice clic se vi è piaciuto un pollice in su e in descrizione vi lascio tutti i dettagli per iscrivervi sia sul gruppo chiuso che l'indirizzo del sito dove poter trovare questi meravigliosi filati io vi auguro un buon pomeriggio e grazie per avermi seguito grazie per avermi seguito